Si continua gente, perfetto, abbiamo fatto la gara con Luigi, cioè la prova a tempo con Luigi, ora la faremo con Struzzi Troppo forte, quando parla Struzzi fa ammazzare dalle risate, cioè adesso non è che fa sbellicare però fa un po' ridere, a me piace Vediamo che motocart abbiamo Il super calomaco, troppo forte, è una delle mie auto preferite Vediamo che circuiti ho, che circuiti ho La pista di Mario nel trofeo, guscio, l'ultimo circuito, cercheremo di battere i 2 minuti e i 14 di Baby Mario Ci proveremo, adesso vediamo se ce lo facciamo, perché non sarà facile Forse ce lo facciamo Ah vabbè, se c'è quello lì della galleria a forma di tubo, sì, credo di sì Ah vabbè, 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 troppo forte questo circuito Struzzi non avevamo mai usato una macchina, avevamo soltanto usato la motocicletta Era la moto standard, boh, se ricordo E io preferisco però che se le piante piragne sono rivolte verso l'alto, cioè che mangiano l'aria, tra virgolette Perché è sempre meglio Odio invece quelle che stanno nei tubi e ti prendono Sì, quello dà leggermente fastidio No, ma che dico leggermente? Dà molto fastidio No, che dico, molto fastidio, è un fastidio disastroso Eh, cioè proprio Quelle piante non hanno più speranze di vita secondo me Usiamo i funghi Cioè mi hanno messo soltanto 48 secondi, bene Andiamo a mettere che è il primo giro, ce lo siamo consumato bene Ora sto zitto, va fino all'ultimo giro Alla prossima Alla prossima Siamo a 1 minuto e 33 Abbiamo messo 45 secondi per farlo questo Quindi dobbiamo subito sbrigarci Mi sa che ho fatto un gran errore prima Per consumare tutti quei maledetti funghi Perché lo dico io Credo che forse ce la facciamo Forse Non ci vediamo mai per certo Sarà un po' difficile secondo me No, non ce la facciamo No No, aspettate, che ne dite po' Che ne pensate? Cioè, che ne... Vabbè, non ho detto po' da sempre ce la faccio No, ma è impossibile Vabbè, lo dico io È impossibile Però di poco, ragazzi 13 14, ecco Ora dobbiamo superarlo Non mi importa Comunque non siamo arrivati a 2 minuti e 20 Riammonto Comunque abbiamo fatto un nuovo record Perché qua non abbiamo mai fatto la prova a tempo Prima d'ora E comunque Anche se Bebe Mario ha fatto il suo record Anche noi abbiamo fatto il nostro Adesso qualcuno deve superare il nostro record Speriamo O alcuno non lo superi Perché secondo me gli altri sono Non sono dei pirva Nel questo circuito No, scherzo, dai Ciao, ciao, ragazzi